Una location suggestiva come la collegiata dei Santi Gervasi e Protasio di Sondrio è stato all'incantevole palcoscenico del concerto del gruppo corale Ad Libitum, protagonista di una serata di musica e spiritualità. Una performance magistrale, quella regalata all'uditorio a corso sabato scorso, che ha potuto godere di un evento all'insegna di brani intensi e raffinati, capaci di creare un'atmosfera sospesa per offrire importanti occasioni di riflessione in questo tempo di quaresima. Don Marco, che custodisce questa chiesa, ha pensato insieme a noi che nella prossimità della Pasqua fosse bello organizzare un momento di riflessione, di meditazione e di musica, perché la musica aiuta a meditare, aiuta a riflettere. La corale ha deciso di proporvi un repertorio che ci è sembrato particolarmente adatto alla festività pasquale che ormai si avvicina. Condotti dalla sapiente guida di Daniela Gargentini e accompagnati dal giovane e talentuosissimo Ismaele Gatti all'organo, i membri della corale, tra i quali spiccavano il soprano Elena Giavari e il baritono Ottavio Ondio, hanno saputo toccare il cuore dei presenti, con esibizioni sulle note di Johann Sebastian Bach e Gabrielle Forè. Una serata raffinata, impreziosita dal contributo di Don Marco Zubiani, le cui parole hanno dato vita a fondamentali occasioni di raccoglimento, capaci di donare un nuovo significato a un evento di fede e musica in preparazione alle imminenti festività pasquali. Grazie a tutti. Grazie a tutti.